se ne sta nei parchi, nelle piazze e negli angoli delle strade è colorata di rosso, giallo o verde è il posto dove ci si trova a leggere il giornale discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi è gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo c'è e basta è la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione quella per riprenderci lo spazio pubblico benvenuti e bentornati a questa nuova puntata della panchina il programma che facciamo per Caffe News io sono Tommaso, con noi ci sono Martina e il nostro ospite del giorno che è Luca Martinelli ciao a tutti io brevemente vi ricordo un po' come funziona il nostro programma come forse avete già visto, potete vedere se cliccate sugli altri video è molto semplice, noi usiamo uno strumento che è super democratico come Skype e chiamiamo delle persone che ci sembrano interessanti e con le quali ci piacerebbe parlare di un tema molto delicato e particolare che è quello dello spazio pubblico spazio pubblico inteso anche come dibattito pubblico come cose pubbliche che ci siamo dimenticati essere pubbliche per qualsiasi critica, suggerimento, idea di ospite scriveteci a redazione chiocciolacaffeinews.it e adesso possiamo cominciare Tommaso, dici un po' chi abbiamo oggi qui con noi chi è? Luca Martinelli è giornalista e scrittore scrive sulle pagine di Altra Economia un giornale che per noi di Caffe News è molto interessante sia per i temi di cui si occupa perché parla di beni comuni, di sostenibilità, di legalità, di difesa dell'ambiente e sia anche per lo spirito di giornalismo che vuole promuovere un'informazione fatta dal basso un'informazione di qualità però appunto un'informazione critica e indipendente Luca ha scritto recentemente questo libro molto interessante Le conseguenze del cemento in cui parla del tema della cementificazione in Italia intanto Luca buongiorno e benvenuto ciao a voi la nostra prima domanda che vorremmo farti è se ci puoi spiegare appunto in questo libro tu fai un viaggio per l'Italia nell'Italia del cemento quindi dall'edilizia urbana alle grandi autostrade alle grandi opere la cosa interessante che mi pare venire fuori da questa tua inchiesta è che possiamo parlare di un vero sistema del cemento in Italia c'è qualcosa di più grande del semplice problema locale Sì, intanto noi l'abbiamo definita onda grigia e in questo libro non parliamo solo di cementificazione ma parliamo di tutta la filiera di questo percorso diciamo di cancellazione del paesaggio del verde e del suolo come bene comune non rinnovabile nel senso che guardiamo anche ad altre attività che hanno un impatto molto forte sul paesaggio tanto a livello visivo quanto ambientale e sociale come sono ad esempio le cave e la produzione di cemento quindi l'attività estrattiva finalizzata la costruzione e la produzione di cemento facciamo però un passo a monte in questo libro le conseguenze del cemento anche nel titolo riprende un po' le conseguenze dell'amore è il film di Paolo Sorrentino ed è il tentativo di raccontare il processo di cementificazione del paese come se fosse un film e nei titoli di testa di ogni film che si rispetti c'è il nome del regista e allora noi analizzando quello che abbiamo visto in giro per l'Italia da nord a sud nelle prime pagine c'è una mappa che spiega quali sono una cinquantina di luoghi che abbiamo visitato ecco abbiamo individuato il nome del regista e un ruolo che hanno essenzialmente le banche a livello macro finanziando i grandi progetti infrastrutturali finanziando le grandi opere anche da un punto di vista gli interventi di riqualificazione edilizia di recupero di aree dismesse che a volte valgono miliardi di euro ma anche nel piccolo perché alla fine c'è sempre un legame diretto anche tra i piccoli costruttori o le copp di costruzione e le banche locali banche private banche di credito cooperativo c'è una differenza di misura senz'altro i grandi stanno sempre in piedi i piccoli rischiano di fallire ma le banche hanno questo ruolo fondamentale gli aiuto registi invece in questo percorso sono per noi i comuni e questo è senz'altro un aspetto significativo e grave nell'ottica di chi vuole guardare all'esigenza di riappropriarsi degli spazi comuni e degli spazi pubblici gli enti locali sostanzialmente negli ultimi anni finanziano la propria sopravvivenza di fronte a tutti i tagli nei trasferimenti alle autonomie locali con gli oneri di urbanizzazione e quindi usano io ho questa idea che il territorio che è un patrimonio collettivo viene usato come se fosse un banco ecco tu ci hai parlato appunto di tutte queste piccole realtà locali che appunto hai potuto conoscere ci puoi dire un po' perché c'è anche un altro lato della medaglia appunto di comuni che resistono che si organizzano e cercano di combattere questa situazione che cosa vuol dire e qual è uno degli esempi che ci puoi portare che non so un caso che ti ha in particolare ad esempio Allora noi raccontiamo diversi esempi sull'ultimo numero di altre economie quello di aprile 2012 che dedica proprio la copertina a queste amministrazioni pubbliche che hanno scelto di dire basta agli oneri di urbanizzazione alcuni esempi arrivano e questo è positivo dalla Briant la provincia di Monzebrianza sostanzialmente insieme a quella di Napoli è quella che ha la maggior parte di suolo urbanizzato si arriva a sfiorare il 60% del suolo urbanizzato a livello provinciale con alcuni comuni che hanno addirittura sfiorato e superato il 70% ecco il comune di Ronco Briantino piccolo comune in provincia di Monzebrianza negli ultimi anni ha approvato un piano di governo del territorio che riduce il consumo di suolo ma soprattutto ha ridotto e ha portato a zero la presenza degli oneri di urbanizzazione nel bilancio comunale a sostegno delle spese correnti significa ha costruito nell'arco di un'amministrazione un percorso virtuoso per cui il comune non dipende più dagli oneri di urbanizzazione e per questo è un esempio positivo e un caso da studiare un altro senz'altro rilevante anche perché a differenza di Ronco Briantino è un comune più grande è quello di Desio dove dopo che la giunta comunale è caduta nel corso del 2011 ci sono state le nuove elezioni c'è una nuova giunta ecco la giunta nuova ha bloccato la realizzazione di interventi per mi pare circa un milione e mezzo di metri cubi quindi ha stracciato sostanzialmente il piano di governo del territorio che era stato approvato dalla giunta precedente un altro esempio che credo sia molto importante ed è molto recente è il comune di Venaus in Val di Susa che è il primo in Piemonte ad approvare un piano strutturale un piano urbanistico a consumo di solo zero tutto basato sul recupero e la riqualificazione del centro storico e un aspetto che credo sia molto significativo è che il primo luogo che si sta recuperando a Venaus è quel cantiere Tav che è stato abbandonato dopo le manifestazioni del dicembre del 2005 quindi su quello spazio di cantiere che era stato abbandonato dopo che si capì che non si poteva partire a scavare lì il diciamo non poteva partire da lì il carotaggio per capire dove scavare il tunnel dell'alta velocità tra il Piemonte e la Francia in quello spazio occupato dal cantiere sorgeranno delle strutture pubbliche recuperando ciò che è stato lasciato credo che questo sia proprio un esempio significativo di come recuperare utilizzare per il bene comune qualcosa che invece era pensato in tutt'altra ottica ecco ma a proposito di bene comune cioè perché questo sistema secondo te è sbagliato perché è sbagliato che le banche siano a capo di questa cementificazione perché i comuni non dovrebbero ricavare soldi da questi oneri di urbanizzazione proprio ieri sera sentivo su Radio 1 proprio nell'orario di cena questa trasmissione in cui stavano parlando delle edilizie dicevano insomma ogni cantiere che si apre fornisce lavoro a un certo numero di cittadini è come aprire appunto piccole sorgenti di reddito che fanno bene alla nostra economia noi cittadini che cosa ci guadagniamo nel rispettare il suolo come bene comune nel non cementificare io credo che soprattutto in una fase come questa in cui ci spiegano che il credito alle imprese è difficile le risorse per investimenti sul territorio sono scarse sia opportuno darsi un'agenda di priorità allora se io guardo i dati dell'agenzia del territorio questi mi dicono che nel nostro paese ci sono circa 6 milioni di abitazioni a disposizione quindi abitazioni non utilizzate credo ad esempio che invece di continuare a costruire nuove case si possa guardare eventualmente al recupero degli edifici esistenti e che questo recupero riqualificazione edilizia ad esempio di immobili che sono stati realizzati negli anni 20 30 o 40 o anche negli anni 60 senz'altro potrebbe dar lavoro alle stesse persone che oggi invece tirano su nuovi appartamenti se penso invece alle infrastrutture un altro tema a cui abbiamo dedicato la copertina di marzo di altra economia andando a fare il censimento delle autostrade in costruzione in Italia scoprendo che sono 32 quelle in progettazione che hanno un diciamo così già un qualche atto formale o al Cipe o all'ANAS o alla commissione via del ministero dell'ambiente 32 autostrade per 2.100 km e 45 miliardi di investimenti beh se io guardo a questi numeri e penso a un tipo di intervento infrastrutturale che invece potrebbe dare veramente agio a uno sviluppo per il nostro paese penso agli impianti di fognatura e decorazione e non vedo una contraddizione perché anche un un grande sistema fognario per una città per una provincia perché si ragiona in termini di ambito territoriale ottimale senz'altro muoverebbe risorse verso lo stesso settore qualche anno fa già un ex presidente del Conviri Comitato Nazionale di Vigilanza sulle risorse idriche disse a questo paese non serve un piano casa ma serve un piano acqua inteso come un tipo di intervento che non è solo congiunturale l'edilizia in crisi diamo risorse perché si risollevi ma allo stesso tempo è anche strutturale facciamo qualcosa che serve davvero all'Italia quindi credo che bisognerebbe darsi un ordine di priorità e spiace vedere che anche istituzioni finanziarie pubbliche o parapubbliche penso a cassa depositi e prestiti sia più interessata a sostenere o a finanziare la realizzazione delle nuove autostrade nella pianura padana piuttosto che a intervenire su questi aspetti appunto fognature e sistemi di depurazione in più c'è un dato di fatto che l'Unione Europea ha riconosciuto ovvero che il suolo è una risorsa scarsa ma soprattutto non riproducibile quindi una volta che l'abbiamo consumata una volta che l'abbiamo usata una volta che l'abbiamo impermeabilizzata non torneremo più indietro quindi se oggi continuiamo a sviluppare un certo tipo o a immaginare che sia possibile uno sviluppo economico fondato sul cemento l'Italia è una repubblica fondata sul cemento così ho riscritto l'articolo 1 della Costituzione nel libro probabilmente ci ritroveremo tra 15 anni senza neppure più la possibilità di guardare indietro e di tornare indietro va bene allora per chiudere purtroppo dobbiamo già lasciarti ti chiediamo di partecipare a un piccolo gioco che poi così tanto gioco non è che noi facciamo con ogni ospite che è un gioco di responsabilità civica e noi ci chiediamo ogni ospite di chiedere a chi ci guarda un fallo per me perché pensiamo che se chiediamo al nostro vicino di fare una cosa per me magari viene una catena e piano piano riusciamo a cambiare le cose allora qual è il tuo fallo per me allora fermatevi nel vostro comune fermatevi su una panchina se c'è ma anche in piedi a osservare un campo incolto e pensate che quello non è uno spazio da occupare ma che quello è uno spazio aperto immaginate chiudete gli occhi poi immaginate questo concetto di spazio aperto ovvero uno spazio che ha diritto di restare quel che è perfetto grazie mille grazie mille ciao salutiamo Luca Martinelli ricordiamo tutti il nostro indirizzo email redazione chiocciolaccaffeenews.it per scriverci i vostri commenti le vostre idee e vi diamo appuntamento alla prossima puntata alla prossima ciao ciao